E' senza appello l'annuncio di banca a rota di Thomas Cook e lo storico tour operator britannico. L'annuncio arriva all'alba di questo lunedì, dopo i negoziati con i creditori approdati a un nulla di fatto. Circa 20.000 ai posti di lavoro a rischio in tutto il mondo, 9.000 solo nel Regno Unito. Nell'immediato il problema di cui occuparsi sono i rimpatri. Se siete all'estero in vacanza con Thomas Cook, continuate pure a divertirvi. L'autorità dell'aviazione civile prepara un piano di rimpatrio, il più grande della Seconda Guerra Mondiale, riporteremo tutti a casa per la data prevista. Per quanto riguarda il resto d'Europa, ciascun paese prenderà i propri provvedimenti. La compagnia doveva far fronte a un debito di circa 1,7 miliardi di sterline a batter cassa alle banche. Svanita anche l'ipotesi di un salvataggio pubblico, il ministro degli esteri Dominic Rabba ha dichiarato non c'è un interesse strategico nazionale che giustifichi un intervento di questo tipo.